24 donne di origine africana richiedenti asilo sono dal 21 novembre 2016 alloggiate a Lavarone nella magnifica comunità degli altipiani Cimbri in Trentino. Sono partite dal campo della protezione civile di Marco e hanno trovato sistemazione presso la struttura delle suore Elisabettine, ora gestita dalla provincia autonoma di Trento nell'ambito del progetto di accoglienza profughi. Pienamente rispettata quindi la tempistica stabilita prima dell'atto intimidatorio che ha colpito proprio la casa di soggiorno, gesto cui è seguita l'immediata e unanime condanna delle istituzioni a livello locale e provinciale. Ad accogliere le 24 richiedenti asilo c'erano gli operatori della cooperativa Punto Rapprodo e della Croce Rossa. Hanno subito fatto visita alle emigranti il sindaco di Lavarone Isacco Corradi, il sindaco di Folgaria Walter Forrer, la presidente della magnifica comunità degli altipiani Cimbri Nicoletta Carbonari, una rappresentante delle suore Elisabettine e il parroco di Lavarone. Nelle parole di tutti, l'importanza di esprimere un'accoglienza capace di comprendere innanzitutto il drammatico vissuto delle persone ospitate e di rendere questa esperienza un'opportunità di crescita reciproca. Un orientamento che, come è stato sottolineato da tutti, si è già tradotto in una particolare disponibilità delle associazioni nel contribuire a dare vita a percorsi di dialogo, incontro e conoscenza reciproca. Oggi finalmente arrivano queste ragazze, posso dire proprio finalmente perché hanno dato uno stop a quelle che erano le chiacchiere, le deciderie. Oggi queste 24 persone sono identificate con delle figure, con delle ragazze giovanissime dai 18 ai 24 anni che ho paragonato a un Erasmus, è come avere qua delle ragazze che stanno studiando da noi. Io credo che l'accoglienza sarà un'opportunità per il nostro territorio, un'opportunità per confrontarsi con il diverso, con culture differenti, fondamentale se vogliamo adeguarci a quello che è il cambiamento di questo mondo. Sicuramente un'opportunità, un'opportunità per aiutare chi è meno fortunato di noi e un'opportunità anche per aprire la nostra mente a realtà, a culture diverse.